Che cos'è l'MRNA? Partiamo da un pezzo del nome. RNA. L'RNA è una molecola simile al DNA, costituita sempre da uno scheletro a cui sono ancorate le basi azotate. La differenza però è che invece di avere due filamenti, come nel DNA, l'RNA ne ha solo uno e cambia anche qualche altra piccola cosa nella composizione dello scheletro per esempio. E una base azotata, ma che ce ne frega a noi? La sostanza rimane quella. È come il DNA, ma con un solo filamento. Tutti gli RNA hanno questa struttura chimica, ma qui parliamo di mRNA, ovvero di RNA messaggero, che è chiamato così perché, indovinate un po', trasporta dei messaggi. Infatti prende le informazioni contenute nel DNA, che è prezioso e deve rimanere protetto nel nucleo, e le trasporta fino al citoplasma. Perché è nel citoplasma che la cellula usa queste informazioni? L'RNA messaggero, infatti, l'MRNA, è una copia identica della sequenza di basi azotate che costituiscono il DNA. Come dici, 60 secondi sono pochi. Iscriviti al canale col pulsante qui sotto per video più cicciosi sulla biologia. Ci vediamo presto, ciao!